Gaetano Amato all'Ariano International Film Festival per la presentazione di un libro, il titolo è abbastanza interessante, come mai? Tutto si svolge intorno a un mistero all'interno di un supermercato che è il supermercato della Ilunga e quindi il titolo è il mistero della Ilunga, quindi Gennaro Di Palma e il mistero della Ilunga. Gennaro Di Palma è il protagonista del libro, è un ex investigatore, ex poliziotto, questo libro è un sequel di un altro libro che è uscito nel 2009 e che è stato premio selezione bancarella, quindi dopo sei anni esce il seguito che è questo qua. Come mai la presentazione in questo scenario è così bello? Perché conosco Daniele che è uno degli organizzatori, Daniele pochi probabilmente sanno, Daniele Langella lavorava con noi alla squadra quando facevamo la serie televisiva, Daniele era uno dei poliziotti del commissariato quindi ragazzino, ha beccato un mare di schiaffoni e me lo sono ritrovato qua, va a chiamare, gli dice dai facciamo questo festival perché non vieni anche tu a presentare il libro e ho detto molto volentieri. Come giudica questo Ariano Film Festival? Beh in effetti lo conosco poco ma ho letto un poco gli ospiti che ci saranno nei prossimi giorni c'è Enrico, il mio amico Enrico Loverso, c'è Paolo Conticini, ho visto che c'è Franco Pineda in giuria c'è Nino Celeste che è stato nostro direttore di fotografia, mi pare che qualitativamente già solamente con i nomi che ho fatto siamo ad un buon livello insomma quindi poi ho sentito Daniele mi diceva che ci sono prodotti che vengono dall'estero quindi il fatto di aprire a un mercato estero e magari poter aiutare un film a girare in Italia insomma è sempre un'opera meritoria.